ok e poi lo seguiremo esatto noi lo seguiamo a quel punto è finito un'altra cosa dovrei essere perquisito due volte eh prima e dopo davanti a due minuti e questo mi riesce da pazzi eh così la banda dello spacciatore non potrà dire che vi trovi è prima dell'acquisto ma ancora facciamo la finità del domani iniziare lì sì no qui ma chi no no qui non mi scaccia Ricciardo? Dorme. Ha bussato a un numero a ricordo di casa. Sta... Sta bene su? Ah, le ho chiesto se voleva togliersi, ma... mi ha minacciata di lesioni personali. Da casa lei? Sì, certo. Perché no? Non sono abituata a camminare tanto. In stimani da 6 dollari. Magari il prossimo anno possiamo attraverso la bambina che possono costruire poco a tempo. Per esempio il Dennerbaum? Esatto. Ci piaceva tanto, perfì. Sì. Mi dispiace se oggi c'è stato dell'imbarazzo con le persone che pensavano che possiamo tornare insieme, ma allora così felice che... chi no?